Ehmaturia, la neoformazione bescicale Sospetto carcinoma, carcinoma uroteriale Scarsamente differenziato Numerosi frammentini Evacuazione di abbondanti coaguli vescicali Terapia idropinica Ehmaturia, la neoformazione bescicale Una fiala sotto cute di flusso Comadino con Gesson Ehmaturia, la neoformazione bescicale 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 Ooooooooh Ooooooh 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 Vescica prostata Vesciccole seminali Nello stesso contenitore Ureteri terminali In due contenitori differenti Appendice L'infono di Elia Cigliotturatori In due contenitori differenti Andrà tutto bene 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 Ma tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto bene! Tutto bene! Tutto bene! Tutto bene! Tutto bene! Andrà tutto bene! Andrà tutto bene! Andrà tutto bene! Andra Tuttung Andra Tuttung Grazie per la visione!